Sono Massimiliano, titolare dell'officina Mazzocchi, sono a Bettole, in provincia di Piacenza, noi facciamo riparazioni auto, abbiamo un centro revisioni e da più di un anno abbiamo cominciato a collaborare con la Flex Fuel Italia. In un anno abbiamo fatto più di 600 trattamenti, abbiamo riscontrato una notevole soddisfazione nei nostri clienti già dopo i primi trattamenti. Questo trattamento permette all'automobile di riprendere i parametri originali e abbiamo notato anche noi notevoli migliorie. Questo trattamento permette alle automobili di riavere le prestazioni originali, permette di togliere rumoresità, permette di evitare problemi con il filtro antiparticolato e con la valvole GR. Da subito i clienti ci hanno fatto notare che la macchina era diventata molto più fluida, con uno sprint maggiore. Nell'ultimo anno abbiamo risolto tanti problemi anche riscontrati nel centro revisione con i gas di scarico, di rumorosità e abbassamento del consumo del carburante. Dopo il trattamento l'automobile è tornata nei parametri originali e quindi è rientrata per poter passare con l'auto. Dopo un anno abbiamo cominciato a tornare i clienti per richiedere il trattamento perché erano stati molto contenti e volevano ancora beneficiare di questo servizio. Nell'ultimo periodo abbiamo cominciato a fare parecchi trattamenti anche sulle moto e abbiamo riscontri molto positivi con i clienti soddisfatti e con miglioramenti molto notevoli sulle prestazioni. Consiglio a tutti gli automobilisti di fare questo trattamento perché permette di mantenere gli standard originali della macchina e un ulteriore risparmio di carburante. Consiglio ai miei colleghi di diventare partner FlexFuel perché permette di garantire a tutti i propri clienti un servizio del tutto innovativo. Consiglio ai miei colleghi di diventare progete